ZTL in centro, sempre più difficile lavorare, sempre più facile prendere la multa, soprattutto se vengono variati gli orari per il carico e scarico delle merci e nessuno avvisa gli operatori commerciali. Così Moreno Cavallini, fornaio di via Vescovado, tra luglio e ottobre ha già preso otto multe. Ho beccato subito una multa il giorno che ho chiuso per ferie e poi subito ne ho preso un'altra quando ho riaperto e poi quella volta alla settimana che faccio una spesa per il negozio, entravo di solito dopo l'una, una volta alla settimana ho beccato un'altra multa continuamente, almeno per un mese, un mese e mezzo. Otto multe da 73,50 euro fanno quasi 600 euro totali. Prima l'avvio della ZTL serale fino alle 23.30, poi il cambio degli orari per il carico e scarico dalle 4 alle 11 e dalle 15 alle 16 e nessun avviso a chi ha bottega in pieno centro. Non mi è arrivato nessun avviso, infatti io sono stato anche in ZTL e come ho capito stanno già mandando adesso delle pecche per avvertire anche altri che evidentemente sono stati sanzionati. Adesso, che vuol dire però, tre mesi dopo la variazione degli orari della ZTL, un tiro mancino da 600 euro che ha una piccola attività può solo fare danni. Le sanzioni pesano e in questi tempi poi lo sapete tutti insomma com'è.